8 opere si contenderanno il premio per il miglior lungometraggio della 22esima edizione dell'Ischia Film Festival in programma negli spazi del castello aragonese di Ischia dal 29 giugno al 6 luglio. I dettagli della nuova edizione del festival sono stati illustrati nel corso di una conferenza stampa a Napoli, Germania, India, Iran, Italia, Spagna, Stati Uniti e Turchia. Questi 7 paesi produttori dei lungometraggi in concorso all'Ischia Film Festival che esplorano importanti temi di natura etica, politica e sociale tutti collegati dal fil rouge e dalla valorizzazione dei luoghi. Michelangelo Messina, direttore artistico del festival. Sono tante le novità, partire dalle due mostre di cui una anticipa di una settimana l'inizio del festival che si terrà alle terme comunali e soprattutto la possibilità di realizzare queste 5 masterclass che verranno fatte alla villa alla Colombaia. Poi tra le novità senz'altro sono le opere che quest'anno provengono da 17 paesi, ci sono 36 anteprime tra nazionali, internazionali, premier. L'Ischia Film Festival continua il suo upgrade. Siamo lieti del patrocinio dato all'evento. Le parole di Luigi Di Vaia, assessore al turismo del comune di Ischia. Noi contiamo che l'Ischia Film Festival possa crescere ogni anno di più perché insieme ad esso crescono i numeri, cresce la notorietà della nostra isola e l'immagine di quest'ultima non può che giovarsi di eventi di questo prestigio.